La prima volta che fui colpita dall'illuminazione della scoperta di chi io fossi, ero in Chamark, davanti ad un magnifico campo di lavanda. Ferma lì, davanti a tutti quegli steli mossi dal fruscio del vento, ricordai qualcosa che da tempo avevo dimenticato. Dietro il campo c'era una terra in salita e poi il cielo vuoto. Pensai che quello era un luogo dove sarei dovuta ritornare. E andai via, velocemente, come se dovessi annunciare immediatamente a qualcuno quella meravigliosa scoperta, come se dovessi andare a dar la notizia a qualcuno che era lontano. Ero io quella che era lontano, lontano da tutti i campi di lavanda e da tutti quei cieli vuoti, senza sole e senza nuvole. Ma in quei brevi istanti che riuscì a contemplare, ad osare di contemplare quel magnifico campo, Viola, egli mi parlò. Il campo mi disse le cose che dice chi si è fatto aspettare e che senza di lui non si poteva far nulla. Chi si è fatto aspettare dice, eccomi. Semplicemente. Ma tutti gli sguardi ostili su di lui, come a non perdonargli di essersi così lungamente fatto attendere. Quel campo di Viola Lavanda nulla mi deve, ed io posso soltanto tacere e lasciare che entri dentro di me, e a poco a poco tutto quanto mi entra dentro, mi fruscia dentro me stessa, e mi fa fermare il cuore. Non occorrono parole tra me e quella sterminata macchia viola. Le parole sono state fatte tantissimi anni fa. Grazie a tutti.